Un amico, una sorella, un nipote, un figlio. Lo scorso anno migliaia di minori sono scomparsi e hanno lasciato un vuoto in chi li ama. Qualunque sia il motivo della scomparsa, se succede, quando succede, è importante agire rapidamente. Denuncia subito alle forze dell'ordine e chiama i numeri di emergenza dedicati. Aiutaci a ritrovarli. Grazie a tutti.